Ok, vi illustro brevemente una delle mie lattine. Dice una cosa diciamo anche fondamentale che di solito comunque interessa comunque i collezionisti. La cosa principale chiaramente è l'estetica di una lattina, se una lattina è bella o meno. Logicamente le mostre fa sempre comunque delle lattine esteticamente molto belle. Poi altra cosa importante di ogni lattina è chiaramente il produttore. Ci sono vari produttori di lattine, per esempio, quelle più principali sono Ball e Campa. C'è anche Corona, chiaramente, che diciamo che è un po' meno comune adesso. Prima ne facciamo comunque di più. Allora, in questo caso, come possiamo vedere, qua il produttore della lattina è Bolo. Ed è scritto qui. Ne avendo un'altra, vediamo se è l'altra, c'è un altro produttore che vi faccio vedere. Ecco, nel caso di quest'altra lattina, per esempio, il produttore di questa lattina invece è AG. Dove era scritto qui? Il produttore della lattina è AG. E qui, invece, chiaramente è Campa. Altra cosa, diciamo, importante di ogni lattina, invece, poi, è anche lo scu della lattina. Dove possiamo trovare lo scu della lattina? In questa parte di qua, bianca, che sarebbe la scansione, dove c'è il prezzo. Lo scu lo troviamo, praticamente, in questa parte di qua, che sono questi quattro numeretti sempli finali. Qui possiamo leggere un numero che è 10 e 19. Il 10 sta a significare il mese di produzione della lattina, il 19 invece è l'anno. Quindi questa lattina è stata prodotta ad ottobre 2019. Altra cosa importante della lattina, chiaramente, sono anche il colo della lattina, in certi casi potrebbe essere classico, in questo caso è dorato, e la linguetta della lattina, che in questo caso è nera. Diciamo che altre cose, diciamo, importanti, diciamo, a parte l'estetica, queste cose di qua, diciamo, non c'è altro da mostrare. In quest'altra lattina, per esempio, vi lascio vedere anche il mese di produzione. In questo caso, per esempio, abbiamo come mese di riferimento 0,921. Quindi questa lattina è stata prodotta, praticamente, a settembre 2021. Va bene, ok, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Nel prossimo video cercherò di mostrarvi un po' tutte le Java Monster che posseggo.